Cari amici della Gazzetta, ci troviamo sul porto turistico di Manfredonia in compagnia dell'avvocato Antonio Castriotta, giornalista di Stato Quotidiano. Antonio ha seguito da vicino la vicenda che riguarda i pescatori di Manfredonia che si sono ribellati al caro gasolio. Antonio ci racconti nei dettagli cosa è accaduto. Ecco da circa una settimana vi è una protesta pacifica e simbolica dei pescatori di Manfredonia che hanno barricato l'ingresso del porto e si hanno collegato tra di loro almeno una cinquantina di pescherecci con delle funi impedendo l'accesso e l'uscita dal porto. Tant'è vero che la nave che trasportava acqua alle isole Tremiti non è potuta uscire per un paio di giorni e poi vi è stata la possibilità concessa ai pescatori di consentire a questa nave di raggiungere le isole Tremiti per trasportare acqua. E sì, una protesta contro il caro gasolio, gasolio che si acquista ad 1,20 euro al litro quando il prezzo del petrolio al barile è di circa 106 dollari. Quindi non si spiega come mai il prezzo del gasolio è arrivato ad 1,20 euro al litro quando il gasolio si vendeva 1,60 euro il prezzo oscillava tra i 60 e i 70 centesimi al litro. I pescatori credono che si tratti di una speculazione, una speculazione che si riverbera negativamente sulle loro condizioni economiche perché andà per mare oggi significa veramente rimetterci dei soldi. Con il costo del gasolio è 1,20 euro, anche se loro pescassero un gran pescato, in realtà non rientrerebbero nei costi. È una protesta contro il governo e questi pescatori chiedono al governo in effetti di calmerare il prezzo del gasolio, credito di imposta, fermo bellico, sarebbe una misura a sostegno del reddito, si potrebbe fermare il lavoro e quindi il governo dovrebbe versare dei soldi ai pescatori in attesa di tempi migliori, quasi un fermo biologico. Ma nel frattempo la regione Puglia ha stanziato 3 milioni di euro che diviso per tutte le imbarcazioni pugliesi sarebbero 2.000 euro a motopeschereccio, non è una grande cifra perché poi diviso tra i pescatori sarebbe un contributo di 200 euro a pescatore. È semplicemente un atto simbolico, quello della regione che non risolva assolutamente i problemi di questa categoria. Quindi lo stato di cose non è risolto e adesso i pescherecci sono ripartiti? I pescherecci non sono ripartiti perché, ripeto, con il prezzo del gasolio ad 1,20 euro è antiproducente per loro perché ci rimetterebbero dei soldi, perché il dispegno di gasolio per ore in mare è altissimo, quindi non rientrerebbero nei costi. Sono fermi in attesa a questo punto di capire come si muoverà il governo, ma io veramente soluzioni nell'immediato non ne vedo assolutamente. Oltre al caro gasolio vi è anche il problema di regolamenti comunitari discutibili che non tengono conto della morfologia del nostro mare, che hanno paralizzato fortemente i pescatori, anche l'ausilio di mezzi tecnici per il GPS e altre cose che adesso non sto a spiegare, hanno portato i pescatori a subire comunque dei controlli e poi conseguentemente anche dei verbali molto esosi di 10-15.000 euro, 20.000 euro e questo ha messo letteralmente in condizioni i pescatori di non lavorare più. E quindi caro gasolio, regolamenti comunitari e tante altre problematiche che attanagliano questo settore pesca hanno letteralmente messo in ginocchio questa categoria che rappresenta per il permafodonia il polmone economico o almeno lo ha rappresentato fino a qualche anno fa. Grazie Antonio. Grazie a te.